Salve a tutti i cittadini di Portici. Il 12 giugno ci sono le elezioni comunali e si voterà per il sindaco e per i consiglieri comunali. Francesco Portoghese, vi ricordo bene, con 2.195 petizioni popolari e con 49.938 film, ho portato con varie tematiche il 90% di esito positivo. Costanza, coerenza e serietà. Questo è Francesco Portoghese. Lista PD. Vota Francesco Portoghese.